Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te Lo Dico Io, la vostra pillola di cinema deve andare tutta ad un fiato. Oggi, amici cari, ci occupiamo della seconda metà di aprile e un pezzetto di maggio. Pronti a scoprire i titoli consigliati, ma prima non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanellina. Iniziamo subito dal film più atteso dell'anno. Un film più atteso del messia in qualsiasi religione. Ma non più atteso di Sanremo, però diciamolo. Sto parlando di Avengers Endgame. In uscita il 24 aprile. Il film del Marvel Cinematic Universe, diretto anche questa volta da Anthony e Joe Russo e quarto capitolo, dell'epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra. Il film segue le drammatiche vicende accadute durante Avengers Infinity War. Tutte le specie viventi nelle galassie dell'universo sono state vittime della follia di Thanos. È bastato uno schiocco di dita con indosso il guanto dell'infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di tutti i pianeti. Gli Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono unire le forze un'altra volta per tentare di sconfiggere Thanos e riportare l'ordine nell'universo. Ma quanto lo state aspettando? Il giorno dopo, il 25 aprile, esce invece in sala The Informer. Diretto dall'attore, regista italiano Andrea De Stefano, vede protagonista Pete, un ex militare, addetto alle operazioni speciali e congedato con onore. Costretto a usare violenza per difendere sua moglie, Pete viene arrestato e rinchiuso in prigione. Due agenti dell'FBI gli offrono però la possibilità di una liberazione anticipata, a condizione che diventi un loro informatore e che usi le sue abilità di ex militare per aiutarli a incastrare il più potente boss della criminalità new yorkese, The General. Quando però l'operazione per permettere la liberazione di Pete provoca la morte di un agente di polizia sotto copertura, l'uomo si ritrova in mezzo al fuoco incrociato tra criminali ed FBI. Spostiamoci ora, 30 aprile, data in cui arriva Teen Spirit. Esotio alla regia di Max Minghella, Teen Spirit è la storia della sedicenne Violet che vive sola con sua madre in difficoltà economiche e sogna di fare la cantante. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show Teen Star, partecipa nella speranza che sia il punto di partenza per la sua carriera di cantante. Violet dovrà superare diversi ostacoli per riuscire ad arrivare in finale e vincere lo show. La ragazza potrà realizzare il suo sogno di diventare una star? Stesso giorno esce anche Attacco a Mumbai. Diretto da Anthony Maras è ambientato nel novembre 2008, quando alcuni jihadisti del Pakistan mettono in atto una serie di attacchi terroristici a Mumbai, facendo precipitare nel caos la città più popolosa dell'India. Durante i tre giorni dell'assedio, gli uomini armati sequestrano il leggendario Taj Mahal Palace Hotel, tenendo prigionieri all'interno oltre 500 ospiti e dipendenti. Il film si concentra sugli eventi accaduti nell'hotel. Tra i membri dello staff dell'hotel, il rinomato chef Hermano Beroy e un cameriere sick rischieranno la vita per proteggere i loro ospiti e, mentre i media di tutto il mondo stanno a guardare, una coppia disperata dovrà compiere sforzi inimmaginabili per difendere il loro bambino appena nato, mentre uno spietato milionario russo sembra interessato solo a salvarsi la pelle. Nostagia e divertimento per la biopic su Stanlio e Olio Diretta da Jonas Payard, vede protagonista il duo comico più celebre della storia del cinema, ovvero Stan Laurel e Oliver Hardy. Il film si concentra sull'ultimo tour in Inghilterra di Stanlio e Olio all'inizio degli anni 50, finita l'epoca d'oro che li ha visti il re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme. L'incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall'ombra dei loro personaggi e dai fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, che amminaccia il loro sudalizio. I due vicini al loro canto del cigno riscopriranno l'importanza della loro amicizia. Lo trovate dal primo maggio in sala, e chiediamo il giorno seguente, il 2 maggio con i Fratelli Sisters. Diretto da Jacques Audiard, è il 1851, e Charlie e the Lai Sisters sono due fratelli assassini cresciuti in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue, sangue di criminali, sangue di vittime innocenti, sono dei pistoleri e quella è l'unica vita che conoscono. Il più anziano dei due, l'introspettivo Eli, continua ad uccidere su commissione insieme al fratello più giovane, ma sogna una vita normale. Il più giovane dei due, Charlie, che è anche un gran bevitore, ha preso entusiasta il controllo del duo nell'esecuzione dei loro cruenti mandati. Ciascuno di loro mette però in discussione il metodo dell'altro e la loro vita è un continuo battibecco. Durante un viaggio nei territori del nord-ovest, i Fratelli Sisters giungono sulle montagne dell'Oregon, poi in un pericoloso bordello nella piccola città di Mayfield e, infine, nella California della febbre dell'oro. Il viaggio metterà a dura prova il legame tra i due fratelli basato sulla loro attività omicida, ma potrebbe anche trasformarsi nell'occasione per scoprire ciò che resta della loro umanità. Bene, cari amici, questi erano tutti i film che avevo da consigliarvi per oggi e in uscita nelle prossime settimane. Adesso fatemi sapere in un commento qui sotto quali sono quelli che aspettate di più e quelli che non andreste a vedere manco gratis. Grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!